Ecco alcuni titoli dei media italiani. Trump avvalanga in Iowa. De Santis la spunta su Haley, ANSA. Che cosa ci dice il plebiscito storico per Trump in Iowa? Le primarie per la Casa Bianca sono già finite, Corriere della Sera. Trump vince in Iowa e Biden lo proclama candidato ufficiale. Agi. Primarie USA. Trump trionfa in Iowa. De Santis secondo con 30 punti di distacco. Avvenire. Ebbene, come avete notato, questi sono quotidiani italiani o agenzie di stampa dichiaratamente contro Trump, anche perché favorevoli a Trump non esistono. Comunque, non hanno potuto esimersi dal titolare in questo modo. La vittoria di Trump è stata schiacciante. Certo, potrete dirmi, ma questi risultati sono esattamente quelli che conoscevamo un po' tutti tramite i sondaggi. Quindi, perché stupirsi? Ebbene, insomma, ci si stupisce perché questi, possiamo definirli voti veri, anche se per la verità, nello stato dell'Iowa, le primarie non si svolgono in cabina elettorale. Si fa in uno strano modo che a noi può risultare insensato. Anzi, che è proprio insensato. Vabbè, ma comunque non importa il modo nel quale si vota per le primarie in Iowa. L'importante è che Trump ha lasciato il secondo arrivato a 30 punti di distacco. E allora io a questo punto toglierei il punto interrogativo all'articolo del Corriere della Sera, tramutando quindi quella frase da interrogativa in affermativa. Le primarie per la Casa Bianca sono già finite. Se queste primarie in Iowa hanno dato un risponso, questo è senza dubbio l'America ama Trump. Hanno fatto di tutto e di più per mettergli i bastoni fra le ruote. Hanno usato i mezzi più illeciti e direi immorali per fermarlo. Niente da fare. L'America lo ama. All'interno del suo partito non c'erano sfidanti scarsi, tutt'altro. Eppure Trump, passatemi il termine poco elegante, ma li ha asfaltati. Probabilmente non occorrerà, come di consueto, attendere il cosiddetto super martedì, ossia il giorno nel quale vanno al voto per le primarie il maggior numero di stati americani. Il super martedì, insomma, tradizionalmente determinava il vincitore delle primarie. La partita all'interno del partito repubblicano, ora, insomma, mi sembra che si possa dire già che si può concludere già, diciamo, dopo le prossime votazioni in New Hampshire. A stupire, infatti, non è stata la vittoria, ovviamente, ma il trionfo di Trump. Ha stabilito il maggior margine di distacco nei confronti degli avversari, 30 punti rispetto a Ron DeSantis e 32 rispetto a Nicky Hellei. Insomma, storicamente non c'è mai stato un distacco così elevato e Nicky Hellei potrebbe risultare la vera sconfitta di queste primarie. Nell'entourage della Hellei, infatti, così, si dava per sicuro il suo secondo posto dietro a Trump, con un distacco che auspicabilmente non fosse stato eccessivo. Insomma, due gli obiettivi mancati entrambi. Non festeggia, ma, insomma, può essere soddisfatto. Invece Ron DeSantis, anche lui, sperava in un minor distacco nei confronti di Trump, ma, insomma, il secondo posto è comunque parso un risultato apprezzabile. Ora la Hellei, che ha perso voti ogni volta che era apparsa in TV, ha annunciato che non parteciperà a scontri televisivi se non contro Trump o Biden. mi verrebbe da dire idea tardiva, ormai gli americani un po' l'hanno conosciuta e hanno capito, insomma, la pochezza della persona. Ron DeSantis, a mio avviso, non ha ancora la maturità necessaria per aspirare alla Casa Bianca, manca del tutto di carisma, carisma che invece è proprio il pregio maggiore di Trump. Oddio, ciò che gli americani apprezzano di più di Trump è il fatto di non essere ricattabile. Non è una persona ricattabile, ma non solo, non ha neppure bisogno di affidarsi, appunto, per la campagna elettorale all'appoggio delle grandi multinazionali, un appoggio che, ovviamente, nell'eventualità di un'elezione deve poi essere ripagato. Certo, sappiamo tutti che Biden ora farà ancora più affidamento su quell'America, passatemi il termine, multietnica. Io posso solo immaginare quanto verrà versato in sussidi vere e proprie prebende elettorali. Ultimamente l'amministrazione Biden ha cercato di ammorbidire un po' la politica estera. Certo, non ha preso le distanze da Israele e ha parole e continua a sostenere l'Ucraina. Ma il fiume di denaro che andava verso quelle zone del pianeta sembra si sia prosciugato. L'America è stufa di guerre, gli americani vorrebbero stare maggiormente in pace, ma quando alla Casa Bianca ci sono i democratici, si sa che così va a finire, insomma. E poi vincono, naturalmente, dei meritatissimi premi Nobel per la pace. Ma torniamo a Trump. Allora, l'Iowa è un piccolo staterello del Midwest, ossia quella parte degli Stati Uniti che, secondo alcuni, serve solo a dividere la costa est dalla costa ovest. L'Iowa, dicevo, improvvisamente ha assunto un'importanza capitale per queste primarie e, naturalmente, di conseguenza per le prossime elezioni presidenziali. Ecco, Trump era chiamato ad una prova, non dico decisiva, ci mancherebbe, ma senza dubbio rilevante. Tutti gli occhi erano puntati su di lui. Era un po' come il campione sportivo che rientrava in gare ufficiali dopo un lungo infortunio e tutti volevano vedere se gli erano rimasti quelle doti fisico-atletiche che lo avevano reso un fuoriclasse. Ebbene, ha tolto ogni dubbio. È tornato, è sempre Super Donald, politicamente un caterpillar. Alcuni candidati sono usciti con le ossa rotte dalla votazione in Iowa e hanno deciso di concludere così la loro corsa alla Casa Bianca. Ora occorrerà capire come si disperderanno quegli elettori che avrebbero sostenuto questi candidati. Ma, insomma, si tratta di briciole. Forse in grado di stabilire chi arriverà dietro a Trump, cioè De Santis o Halley. Poco importa perché Donald ha già detto a chiare lettere che nel caso tornasse alla Casa Bianca non sarà uno dei candidati repubblicani ad assumere la carica di vicepresidente. Insomma, attendiamo il risultato del New Hampshire. I sondaggi danno Trump al 40%, ma è chiaro che se dovesse addirittura superare quella soia ebbene, le primarie repubblicane poi rimarrebbero una passerella trionfale per Donald Trump.